Allora, continuo il nostro tour, siamo qui con... Dome! 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 Ma come? Dome! Dome! Ma come Dome? Dome! Dome! Lui è Dome! Io sono Gianfrey! Gianfrey! Gianfrey e Dome! Dome! Gianfrey e Dome! Li conosciamo Gianfrey e Dome? Ci conoscete? Non lo so! Eventualmente piacere Dome! Gianfrey! L'è! L'è! Angelo! Angelo! E' anche Dome! E' stato piacere, ora puoi andare! Allora, la tua figa è finita! Allora, andiamo a un messaggio a chi è rimasto a casa per il futuro, perché questo sarà un differito, verrà postato sui nostri canali YouTube, e quindi perché devo venire a questi eventi? No, quindi bisogna venire a questi eventi, soprattutto se siete belle ragazze, perché oggi abbiamo bisogno! Dicevo lanciare un appello a tutte le ragazze, per favore, venite a questi eventi! Tutte le ragazze senza distinzione di sesso! Non c'è problema, tutte basse, larghe, medie, bisogna venire a questi eventi, perché bisogna recuperare la partecipazione attiva alla vita politica di questo Paese, la politica non è solo chi partì, la politica deriva da Polis, da Greco, e quindi vuol dire partecipare la vita della propria comunità in modo attivo, quindi bisogna sfiodare il sedere dal divano di casa e fare vera vita politica assieme ai nostri portavoce, perché i nostri portavoce hanno bisogno di noi, della nostra vicinanza, quindi mi raccomando, chi non è potuto venire che prende la prossima volta non manchi, perché solo così si può partecipare attivamente e decidere per il prodotto! Se poi passano anche al nostro bar a farci un caffè pagano soprattutto! tutto allora l'appello! Volevamo fare un appello molto importante, serio e il Parlamento? Sì, molto serio! E' il conto! Cioè ci sarebbe sempre questo famoso conto! Solo i 5 Stelle lo pagano! Ecco noi abbiamo bisogno! Ecco, con tutte le interrogazioni parlamentari che fate, fatene una per far pagare il conto a questi parlamentari che non c'è uno che paga, che stiamo sempre a segnare, a segnare, tanto poi ve li rinforzano, loro pagateli! Ma chi ce li rinforzano? Non c'è questo! No, a loro! A loro li rinforzano! A loro li rinforzano! A loro li rinforzano! Anche non sono un ordine del giorno! Noi non ci si utilizziamo! No, io non mi suggerisco mai! C'è problema! Il giorno è interrogazione da Circo Massimo, un saluto da Tome! Ciao! Ci aspettiamo! Dovete venire qua! Dovete tornare la prossima volta! Ci aspettiamo! Soprattutto le ragazze! Ci aspettiamo!